Proprio il timer! Sono andato a mettere l'onario Figlia, il timer! Perché? Mi ricordavo che era oggi Sì sì Ho detto, ma perché andavo nelle fattive? E c'è l'orario Allora, vediamo se hai trovato il game Ok Io ho messo il nuovo automaticamente Quindi non me la serve Non ti d'accordo A me pure c'è l'automagina Però vabbè ricordate Ricordatevi un chat Lo stesso, che se no io non lo vedo Rega Che se voi lo vedete che vi rinnova Ditemelo, perché a volte non mi viene L'alert che è stato rinnovato Lo sa, ho capito? Così almeno vi ringrazio se sapete che è stata rinnovata Da 1-2 giorni Capito? Sì sì C'è in genere Te arriva solo se uno fa l'abbonamento proprio quando sei dai Dipende, la maggior parte delle volte sì Però dipende Perché a volte mi viene fuori Il titolino che è aumentato di mese Tipo Su di voi, qualcosa che vuole Però È tutto buggato qua Buonasera raga Buonasera raga Buonasera raga Buonasera raga Non mi viene mai niente Perché è niente C'è lui e tutti Monty Questa è la tua prima partita? Sì, sì. Ok. Andiamo qua. Eh, a destra, eh. Si vede poco. Lanciati, lanciati, Aramis. Ok. Ehm... Andiamo qua. Franci, grazie, ragazzi. Mi butto sulla taglia, proprio, eh. Ma allora già usciti, eh. Cosa? C'è gente a sinistra. Vanno alla taglia, andate via, andate via, andate l'altra. Andate via, andate via, non prendetela, eh. Eh, uè. Hanno le armi già, sì, sì. Bene. Perfetto. Sì, tenere premuto. Ah, no, no, ne sono due. Sono lì. Due, sì. Stengate. Pure l'UAV, questi. TRIPLONE! A CASA! Sì, Francesco, il battorio è il, Broder. Gheri, Gheri, andiamo insieme. Ma mia, rega, questi ci sono pigliato una... ...una roba che non voglio dire. eh, vabbè, eh. Eh, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Non lo rivedrai più. Ehi. Taglia. Ma, ma. Adesso quanto costa? Ha già pittato, quattro. Ce l'avete. Guardare Sei a pisciaro Non è il posto giusto Esatto, sei proprio alla brutta Va bene Ok Bell'arcore Ecco, no vabbè quella PS Mi sa che Stavo provando Ma sbrascio ogni tanto Ah, crasha E' bello grezzo sto gioco Oh Ok Altri Oh Oh Dai pazzo Ne manca uno Aviso Oh 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 Ma sai dirmi perché non sempre si può rianimare il compagno? Soldato nemico in arrivo Dai però Puglianazzo Come on bro Don't try to shit at home Avevi soldi ma non mi faceva rianimare Avevi soldi ma non mi faceva rianimare Sai che non lo so Com'è il gioco della mappa? Molto bello Simone Molto bello Non ne dia Loris è un po' grizzo anche per me Quanto riesce ad andare nello shop? Si Faccia rianimare perché o si era bugato in un angolo fra può essere Ma magari tra di così a terra non sembra che perde un po' più di tempo Eh perché c'ho il pad rotto e non mi scatta subito A volte Wow Perdi i datati Ok Ok Prima la taglia Ciao Alessio Ciao a tutti Rega Grazie per il like Belli miei Andrea Marco Nicolás Gaetano Cristian Grazie Belli miei Un bacione Buonasera Todos Muchach Ok Possiamo prendere la taglia Troppo Non appena mi compro di roba Quad rotto Contratto caccia Contratto caccia Eh No lì come cavolo ci si va No andiamo Prendiamo la taglia Identità dei bersagli confermata Prendiamo la macchina E andiamo là Ciao Andrea Molto bella Mi piace molto Molto strategica Stava un po' qua E super equilibrata Mi piace molto molto Anche piena di edifici Bei colori Molto bella Fatta bene Io I colori ricordano Over task Si Mamma mia Ma te frizza ogni tanto Si si Ho la tenza 80 90 Ma sento gente Quella di prossimità Questo Josh Qua ce l'ha inizio a partire Ehi Yo bro Come è Yaku Da posto Sì Sto giocando Si Sto giocando Ma siete 4 No no Si No no Tra di noi no Finisco questo E ti invito Se vuoi Si si Perché Porta troia Non sto Stolta dentro Niente Però è troppo Dico Ma dove sei Nel canale Bocale Esci 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 Marti Esci Esci E come Come Cazzo Vado E che Non Non so Perché mi Paggia Mi Mi Butta fuori Quando vado Nei social Lo so Aspetta un attimo Fra che Stam giocando Che è un casino Ho appena morto Come un Call Ma intanto Metto il cavo Ciao Dani Come stai Tutto bene Tatone Questa pistola No Tutto ma non Tutto ma non Ciao max Grazie per Like Bello Com'è Niente Niente Distrutti Se sto Imbazzire Che non Non so Perché non Riesca A vedere I commenti No Mi Dissodio Sì Sì Lazz Se riesci a venire Bene Sennò Niente Bro Perché Abbiamo perso Un'ora Per cercare Di imitare Le persone Noia Sono un casino Proviamo Mas per livellare Uno Si fa un bel po' Senza Devo completo Eh sì Per questo Bisogna Shoppare I game Per chiudersi Nel multiplayer E nerdare Come dei Drami Piosto Bene Da torna Grazie Ok Provo a invitarti Bro Ma non ti assicuro Niente Perché Perché A volte Non si riesce Ad entrare Sono entrato Sì Sì Sono entrato Sì 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 Mi sentite Chi è Darakos Entra bro Mamma mia Ragazzi In questo gioco C'è Corro Lascia fare Fortuna che siamo Tutti nel canale Guarda Grande Ok Siamo quattro Perfetti Raga Godo Minchia Adara Prima ho provato Invitarti Minchia Era tutto Paggato Tutto Sì Ma male Che ci stanno I canali Perché Sennò Non potevi Giocare Con nessuno Sì Ma anche Con i canali Guarda Che non riesco Ad entrare La gente Siete stati Fortunati Non è che Sono citato Invitati Se tu Resci dal canale E tu Mettiti sul canale Della lobby Cioè Là ti senti Ah sì Però Se lo fai Da non Cioè Non puoi andare Nella lobby Dai tuoi amici Dai tuoi amici Te li blocca Ciao Ehi Ok dai Ma chi siamo? Io te Darako sei Ciao Altri sub Ma quello che parlava Josh Non so come si chiamava Durante le partite Chi era? No era Shinji Alla fine Che ci ha parlato Che stava parlando Con noi E sembra che fosse Nel gioco Un altro nome Eh perché Anche degli altri tipi Lì vicino a noi Stavano parlando Arlacciato in prossimità Capisti? Capisti? Sì Sì Ma è una figata La parte di prossimità Che èissimo Cioè Sto gioco Secondo me L'hanno fatto benissimo Sì Bellissimo La devono sistemare E non migliorare Questa Sì Questa è bellissimo Secondo me Deve essere Un po' più veloce Della qualsiasi cosa Perché è troppo Meccano Eh ma l'hanno fatto apposta Secondo me Per rendere tutto Un po' più lento Però Che è qua Io non so Sento di confondi Ma con quel cazzo Di zaino Non si capisce niente Sì È vero No Non si capisce niente Io prendo Io prendo Tutto Qualsiasi cosa E poi Quello che c'ho Mi adatto Grazie Grazie Benito Bello mio Grazie Tato Ma Zalto Grazie 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 Ok. Scesiamo. Vediamo se può vincere una partita prima, se no è andato terzo posto e settimo posto. No, è ancora vinta? No. Tu? Sì, sì. Stamattina. Io no. Devo cercare di mantenere il radio alto perché non viene orto, non so se non la play 3. Beh, non è facile all'inizio, devi giocarti in radio più avanti, tra un mese, da rimontarlo bene. Tanto poi dura due anni questo gioco. Allora rega, andiamo... andiamo qua. E c'è anche il carrello poi. Ma non c'è la taglia, eh! C'è un casino. Uh, grazie. Cosa? 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 E ti sono scese qua avanti. Sì, sì. Eh, fronte a me, fronte a me! Ping rosso! Non ho armi, ha solo una pistola. Dovete... Oh, secondo me è anche a destra, eh! Cosa? Eccolo qua! Cosa? 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 Aspetta? Ne abbiamo fatti due, loro, eh! C'è un po' di casino qua davanti, eh! Cosa? Ok, a non andare solo! Uno fatto! Nice! Oh, no! No, no! No, no, no! Sono dato? Dai, bro! Io sono qui! Altra gente pronta! Ok, li vedo! Lo vedo, lo vedo! Sul teto, sul teto! Eh, guante sotto, guante sotto, guante sotto! Ok, non la vedo più! No, è lì sotto, è lì sotto, è lì sotto! Vedo, 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 vedo! Chi m'ha nientata? Passatelo! Passatelo, perché forse c'era questo in bocca! Arriva, arriva! Sì, sì, è qua sopra il tetto! Grazie, GG! Ciao, GG! Buonasera! Audio, pro, audio! Eh, minchia! Sì, sì, sì! Lanciato, 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 lanciato! Eh, devi pingà di qualcosa, fra! Davanti al ponte! Sotto il ponte, pure avanti! Tipo direzione, dai! Audio! Audio! Audio, please! Ci serve una mano qua! Ci serve una mano qua! Ci serve una mano qua! Non inseguitelo, raga! Ci serve una mano qua, noi! Vabbè, vabbè, raga! Cioè, iniziamo! Shinji, non... non devi inseguirli, se ne ho una terra qua! Se no... ah, c'è! Ma io eravate... Puoi inseguirli, Darako, sei Shinji! Tutte e due, siete andati a farvi quella kill inutile! E siamo tutti al gulag, adesso, eh! Noi, non ci sono stati tanti, no! C'è solo il modo per gli aere... Uccidere! L'ho preso da un altro che dimmi! Tiro una sente! Tiro una sente! Tiro una sente! Stiamo qua davanti, adesso. Stiamo a scelare! Ero una sente! e si è gg assolutamente ma ancora dai ma stai scherzando Che cazzo di coso Che è rimasto in vita Ah nessuno abbiamo perso? No no abbiamo perso Bella gg buonanotte tato ci vediamo alla prossima Stammi bene grazie per esser passato Rega uniti Qua ci sfondano Please Lola, batte il pass. non so voi cosa che anche a me faremo lag tantissimo in game però no riggezza ragazzi no ma ne non fa muovo il bacio Eccola qua la Marty Grazie per la Re sub Come funziona quella mappa Grazie Marty 9 me Oh la la Ci si avvicina all'anno ragazzi qua Ai 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 Dai Ma che ti sei fatto lo studio nuovo? Non sembra la tua No no me lo sto facendo Pian piano Sto mettendo un po' a posto Per ora sono sempre al solito posto Ma non c'è sempre questa stanza? Sì 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 lo faccio qua Tolgo l'armadio dietro C'è togli il letto Tolgo il letto Lo sposto nell'altra camera L'armadio lo sposto in un'altra camera Vado a vivere in un'altra camera E qua ci faccio solo studio da stream Beh sì ci sta Sì Lì dove c'è l'armadio Si dividi un po' Sì esatto Faccio una bella scrivania Gigante Bella spaziosa Che qua sono in cubetto Tutto compatto C'è in caldo Umberto Ciao Federico Sei passato Grazie Grazie per il foglio Umberto Benvenuto Buon divertimento Dai raga Andiamo un po' distanti Dai facciamoci gli affari nostri Anzi andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Taglia taglia Dai 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 c'entrava Idro elettrico Andiamo alla taglia Via Let's go Let's go No diciamo dove andiamo sull'aereo Mi sento tutta la lobby Ah sì 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 C'è gente che va sulla taglia Chiedente Sì sì Mamma mia Più di un team Troppa gente Ma che è Un'altra Un'arma non c'è ma veramente Non c'è Non c'è Non c'è Un'altra c'è un altro? c'è un altro si aspetta aspetta c'è un giro mi stupi a strada eh sono io con la pistola hai fatto? si c'è un altro oh avviene oh ti mani in tavola nice l'hai fatto? audio ancora me ce n'è un altro marty c'è un'arma ce n'è un altro c'è Rosy benvenuto colimbo eh qua eh qua eh qua marty non ci vuoi ma dov'era? boh pensavo che fossi te nella stanza beh sono da guardare la stanza avanti mamma mia ma non si dà niente da terra in questo sparano lì eh non riesco a pingare occhio cecchino da 255 oltre o meno ci guardano c'è uno c'è uno buon ciao Teo come stai bello nino? c'è uno grazie per essere passato guarda da voi ci sono armi? com'è lì la situa? c'è gente? eh sì si è ringe qui lì è tutta lootata eh vado via c'è un'altra di queste case quanta lì davanti c'è gente? eh no sono andato via da lì girano girano a destra quella a me stai cercando a rimanere una pausa localizzando diverse roccaforti tutto tutto c'è una fatta nice no no chi ha fatto? ha fatto stava dove sta appoggiato sulla pompa di benzina proprio di benzina riuscite a darmi un ping raga che non capisco è nella è nella pompa di benzina è nella pompa di benzina è la pompa di benzina è stato proprio distributore sono tre sono tre sono tre grazie mille Teo c'è c'è una che mi fa testa c'è una che mi fa testa dai bro dai dai quanto scudo? non gira craccavo riuscite ad aspettarmi fra dai porca puttana no 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 ma devo farmi indietro devo andarmene dove li dà la pompa? si si ma devo andare devo scappare devo scappare perchè sono troppi quanti sono scusa? sono tre tre li ho visti cioè dai raga ma non trovo un'arma ma di che stiamo parlando traccato erano tutti e tre lì attaccati a lui poi hai sparato te che erano tre singi parlo con te bro arrivo a si si non ti sentivo scusami ma che cazzo? dove ero? dico era solo uno però che ti inseguiva no no ti sto chiamando le guardie sono tre ok calma 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 non pushare non pushare che sono due farà sono qua ormai eh 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 vabbè calma 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 tranquillo non ti preoccupo salgo sopra il tetto uno shot uno shot aspetta che mi faccio un po' più indietro occhio occhio moon ci sei? ho fatto uno spara a me spara a me aspetta aspetta si si tranquillo dov'è? sul tetto i think sono entrambi qua mi ha visto mi ha visto mi fa indietreggio un pochetto ma sono sul tetto? ti segue camion 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 ho anche una alla finestra un è dietro il camion dietro il muletto del camion è la finestra no 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 non c'ho lento eh non c'ho niente raga che faccio? devo prendere quelle armi lì che faccio? eh eh non c'ho niente devo provare a lootarlo devo provare fai il giro di là abbiamo con sto loot qua ci mette tre ore a prendere quelle muni da terra c'è tre ore raga ma infatti questo è brutto devono velocizzare sto cazzo di gol ma pure le armi le cazzo guarda che non mi si alzi fia che joystick no 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 soldi bisogna fare le come si chiamano questo sento la cassa però soldi di ci se non riesco a fare questi vi arresto tutti per adesso ciao massimo come stai bello mio tappoio però lo shop dove sta no no la ci sono le mini c'è l'osservatorio ragazzi ce n'è uno qua era quello di qua cassa cassa dietro vedrà vedrà problema che quelli mi pusciano siamo quanti soli sono 7000 marco che ragazzi dobbiamo stare attenti a non morire se no se no da solo bisogna fare quei contratti lì per restare in quartetti è la morte proprio come vedete non si trovano soldi nel loot bisogna fare le cassaforti però le caccia dove ci sono i nemici purtroppo su dall'osservatorio quello shop la c'era cento cento un team cento cento lì giu ho provata cassa dimmi quando ecco me va leone gross black dimmi quando 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 ai 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 bang bro mi sento flosci raga dagli cazzo come on questo calo gioco che si blocca dai raga come on compatti uniti il problema è anche in gara perché non conosci una mamma eh sì va bene va bene dimmi quando tu verrai dimmi quando 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 brrrrrrrr brrrrrr brrrrrr brrrr E' provato a scendere qua nella città montagna? No, mi rifiuto con questi tetti ancora no, per scendere qua bisogna avere le palle in mano proprio dire boh via con la mappa pdmv2 che bella era let's go martiale di noi , dai complex, mother father, bella distante così lutiamo facciamo un po di armi ma quella sarà sotto dentro la caverna si si è giù andrea damiano grazie per lei mi sto buttando qua nelle case chi ci va a prendere la taglia sta arrivando un nemico occhio la priorità è l'eliminazione di tutti bersagli metta adesso grazie roberta gentilissima grazie andiamo alla taglia dovete le armi possiamo andare andiamo ok saranno belli posizionati dentro le casette no no non sono presa per noi occhio singi sei solo a pushar così eh sei solo vrà occhio no no fraf sono qua loro sono sotto ok no non sono te l'ho detto che c'è una bella sorpresa io no mi dissocio da questa lancia granata due fatti due fatti due fatti due fatti un altro che ha hitato ecco tre a terra due a terra scusa altri due a terra l'ultimo resta non ci fare raggiunto bersagli eliminati fate fate no te lo lasci a bollire e non me l'ha dato eh l'ha dato a me broski ma è giusto così e anche ci ho provato a disparare a casa io sì dai ci credevo c'è un altro agente c'è un altro agente c'è un altro agente c'è tipo la chat tutto bene roberta te? tutto ok? ah sì c'è gente qua sì 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 va bene? eh chat di prossimità everybody mi vado a rifornire di armi? forse qua a scuola audio audio a me viene fuori i miei certi di prossimità sono in un'altra direzione quale? c'è una direzione? c'è e dov'è? come fai a capirlo scusa? eh perché quando mi allontano non me la dà più e io ce l'ho qua ed è anche molto io la chat di prossimità ci saprei ah no non lo so vuole uno campato no no me ne dà tre qua lo diranno tre? sì sì oh double duck si chiama uno ok raga 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 avanti lì sono un team ma non possono essere queste ci guardano? ce l'ha già vista eh? sì 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 beh noi dovremmo eh dovremmo dovremmo prendere delle taglie raga uavvi fare macchina carrello cerco un cerco di a caso no sense quindi dove andiamo? prendere la macchina informazione carrello non è cosa un po' più soft non è cosa un po' più soft qua su? c'è di nuovo la chat di prossimità ci double duck ma cazzo è la 727 sta cosa? andiamo quali sono la mia 127? andiamo a fare l'info sul traliccio immagino è su è su secondo me è sul traliccio solitamente no forse sotto 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 qua sopra non c'è ma sotto era chiuso lì dovrebbe andare da qualche altro posto di solito è qua prova il portatile se trovate il costo della caverna allora ah gg se no eccolo oddio ah no si ah ecco raggiungi il punto di upload e trascendere i dati la posizione sulla mappa tattica quattro minuti quattro minuti no no si ah ok devo finirlo altro ok abbiamo troppo di soldi bene andiamo alla shop? si oh che cazzo ha secchinato i believe i can fly i believe i can fly i believe i can fly se hai preso io lo avvivo i permettivi le armi fate quello che volete leonardo marco grazie rosetta grazie buonasera todoss ierst molti partì germani dai dai ci abbiamo due avevo non savare ospato nonifer ultimo sa questa a sinistra eh questi ci beccano dall'alto ma dovete andare su dalla montagna non sotto sono sopra ci han visto siamo morti siamo già morti tieni il pic che non farti noccare non farti noccare stiamo flencando staccato due a destra non piccare fra uno ha fatto tieni il pic a resisti 20 secondi calma non li vedo io stai qua sottissimo ecco lo vedo lo vedo lo faccio io faccio io bingalo fra così proviamo anche noi a fare un quel c'è ancora me do stai andando stai andando riuscite a restare yes devo capire bene sto cazzo di gioco oh my god oh mio dio sto lasciando i soldi dal carello e capisco come ma questa oh mio dio bro andrea sirigu con le 540 stellone broschi e andiamo con il big fucking support bro grazie mille Tato un bacione mamma mia veramente gentile grazie come stai tutto bene Tato se la cava anche a me v2 il monte grazie mille grazie te l'hai provato com'è come ti sembra eccomi dove stanno a Reagan scusate aspetta che hanno tirato un bombardamento grazie per il like ok ok ma c'è schede però non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è ma dovrebbero stare per di là dovrebbero stare non so cosa voglio dire per di là sta qua giù eccolo si lo vedo li vedo li vedo li vedo da me da me da me da me da me arrivo lancio di equipaggiamento in arrivo treccato il dara ciò dove sono no qua fuori qua fuori qua fuori dalla finestra ho quasi graccato perchè ha un solo me gesù dov'è da quella parte il ping off dai dietro mi sa uno nella finestra a 253 ragazzi non c'è ma un ping non mi fa pingare qui mettiamo uno volo è ancora nella finestra lo vedi no è giù giù la parte sotto dato no no ok la farò una donna prendere un'arma seria salvo andrea grazie per il like andiamo a prenderci il lancio si assolutamente era meglio in macchia c'è gente c'è gente c'è gente scendi 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 non ho il cecchino non mi hanno visto non mi hanno visto sono girato ah non hanno visto che audio passiamo 2 a terra 2 a terra pesa audio ed entro e dentro jacobo non è sceso è sceso da dara da dara avete fatto ma dov'era il il load è questo no dove era più o meno raga perché toglie l'icona ma rimane nella mappa ecco la rega pronto ci siete c'è qualcuno al fin torniamo sicuramente andrà gente qua 105 ciao vitto come stai tato tutto bene raggiungi la tua compagno sta rientrando in campo lo rivedrai presto i'm be lee coming eccomi magari riusciamo a cattare qualcuno audio audio forse c'è uno a marty che dici bollente sento privativo abitato qualcuno alla chat tira aspettiamo raga aspettiamo ce n'è uno qua o puciamo questo che solo teoricamente però io andrei in safe aspetterei che c'è se la vogliamo vincere raga dobbiamo giocare di safe adesso aspettiamo vediamo dove chiude andiamo nella zona nuova ok se invece vogliamo farle chi andiamo a farle chi hanno arrestato lì al carrello raga dove eravate voi c'è il coso rosso più avanti bene io girerei tutto a destra e andrei su qua c'è gente c'è gente c'è gente dove non so se sia una buona cosa piccare qua in open no 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 non deve sparare non deve sparare o merda altri è questo forse riesco a farlo non gli ho sparato penso girando non gli ho sparato rega avanziamo vuoi salire sopra sì sì c'è gente occhio è siamo proprio in open è aspettato a fightare aspettate audio please già sono saliti sopra credo non ce l'abbiamo in altrua vero sei tra gli ultimi 25 bel lavoro andiamo in quella di polizia profi qua qua guarda noi facciamo un'altra attaccata' davanti non c'è gente non c'è gente non c'è gente l'hai fatto marty? si non ha dato team wipe però o sbaglio cosa ha dato team wipe no o sbaglio non lo so neanche di chi cacchio stai parlando non l'hai fatto te l'ultimo? si ma non so se mi ha dato questo team swipe eh ti mannientato ti mannientato eh bro ancora io devo prenderci la mano non lo so non hai visto se c'era scritto eh raga vuoi salire da sopra andiamo da sopra sopra qua ci proteggiamo dalle rocce però è brutta qua ci ho chiuso due safe qua e va sempre in giù va sempre verso le case la safe quando chiude qua eh dico infatti di andare un po' più su ok da destra qua qua da destra non fightiamo eh calmi facciamoci i fatti nostri grazie ve l'hai visto sempre dalle case va figlia sempre allora siamo otto persone quattro team siamo in quattro noi altri quattro tutti singoli what uno sul tetto grande lì io sono un grappolo ok lo vedo quello sul tetto forse riesco a farmelo cecchino il mio vicino sei ok sei buttato giù sei buttato giù sei buttato giù oh 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 bombardamento non c'è chi mi sta mirando calmi 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 state giù qua qua siamo safe ok lasciateli fightà ok tutti altri dove stanno il moretto qui gli altri passi dall'altro lato dietro la casa ok gira da noi qua sotto c'è il cecchino singi riesce a farlo è sempre sopra quel cecchino là eh aspetta 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 l'hai fatto il cecchino? eh no quello sotto sì quello sotto che ha fatto lei sì no no sono altri due occhio no 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 ok sì sì aspetta parla fra parla però eh sì bro eh parla eh parla gg bro come on ecco la win bro di ecco la win bro di brava tu mi dici di passare io nemmeno stavo stavo ricaricando il cecchino stavo eh minchia ma dimmi se li vedi porco due c'è l'ip che gli spara silenzio tipo 30 persone in gioco guarda che gli sparioli dove l'info cazzo va bene va bene gg bravi cingi vuole fraggare vuole farsi lui le kill per questo non le colla raga l'ho capito io l'ho capito l'ho capito cingi oddio ma la fine se tu le due le fante le delle kill no va bene l'ultima ma broschi sopprimi i primi mentre fuori i scivoli sì sì ma io voglio buttarmi michele infatti vai più veloce tra virgolette 11 7 3 2 bravi bravi raga dai come on cc dai 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 comunque la capacità madonna cosa la 74 u è rotta la 74 u si si è rotta franza non ha senso cc come on ma raga ne vinciamo un'altra let's go mi raccomando raga se vi fa piacere perché noi l'abbiamo ancora fatto lasciate un bel follo un bel seguit dai azzù dai io sono a 30 giga di 108 tra 20 ore ha finito di scaricarlo 20 anni non 20 ore quanto sei arrappato fra di nerdà con un dragone che picchia picchia dun 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 ma ti fa vedere il rapporto solamente ah lo metteranno poi ci sono i territori qui che dun 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 d dun 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 andiamo dai ma che figo ma dove siamo qua bello questo tetto qua colorato non l'avevo mai visto what andrea grazie per il like, tetto, buonasera iscaldamento avvenuto andrea grazie a tutti 9 scusate non ho visto qua ah beh fia sempre lì andiamo aspetta cambiamo qua qua però ci arriva un bel po' di gente di solito vai raga dai la taglia yes bro se vanno ok forse deviano pushiamoli tutto pushiamolo tutti una terra qua sono shinji scusa scusa te l'ho scammata no no un altro un altro qua shinji 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 è andato via dai dai andiamo dallo stesso lato guarda testo c'eravamo dove eravate marty e darakos eravamo solo gli shinji lì dentro il coso sulla taglia poi c'eravamo ma è possibile c'eravamo noi dalla taglia marty come è possibile siamo scesi nel garage solo è fuori è fuori ero ho detto che ho messo un'altra l'altra non è fatto come è andata l'acchima ha preso quella cosa parazzata che cavolo come la devo fare come la dobbiamo fare questo vai jacobo siamo insieme si vado a sinistra andiamo a sinistra si si ok non è shottissimo non è shottissimo non è shottissimo ma 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 questo mi ha squagliato perfetto nice rega buona questa buona breve ma intensa ma siamo in tre come entra chi manca che è successo manca ad aracos ci sono ci sono identità non sono in partita l'invitato l'invitato ciao andrea all'invitato non ogni area 5 ricompense che puoi sbloccare quando le sblocchi tutte e 5 ti sblocca l'area adiacente con altre tante 5 ricompense come sblocchi l'area? completando l'area precedente all'interno ci clicchi devi sbloccare 5 ricompense fra con 5 gettoni vabbè ma basta che giochi più o meno devi fare degli obiettini si giochi sali di livello ti dai gettoni ma nel gulag ci stava un tizio sopra la torre ma chi è? è il cavo del gulag che lo sparava vuoi sparare pure? si se si alleano quelli del gulag per ucciderlo tornano tutti e 4 ma quelli invece che ha preso le piastre che era cosa? c'era uno che è stato sulle piastre un po' corazzato eh quello è corazzato al gulag quello lì dici no? già era così si no ci stavano non corazzato ci sta sopra la guardiola c'è una torre di legno sopra in alto ci sta il tizio ma quelli sono quelli che dovevano fare il gulag no no non era quello la puce di quelle del gulag che ti manda il bestione contro ma dopo fateci stare dopo il gulag ora si entra in azione per non andarci bene oh bu va bene, per me la possiamo ristartare subito si fa la prima wind dai, non bisogna andare io? oh no io anzi, guarda vedrai bro, come finirà qua che baggo salto, pienissimo una terra due salto fino a otterrati due audio, audio, audio dai raga, non ti prende l'arma, di che stiamo parlando? l'hai fatto Dara? uno è morto guarda, guarda calma rotto, rotto ah, pezzo di me ah, ma figa, ma ma dai, raga parco due ma c'è cosa a sparare? Dara, ma non li faccio più quei land lì, eh, Shinji io per farmi rovinare il rapporto così te lo dico subito dai, proprio giocare a cazzi come la situazione lì? eh no, puoi sentire, puoi sentire, tranquillo ho aiutato tutto qua sì, sì arriva un nemico lì dove? a me? qua da me sul tetto arriva arriva, 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 arriva respeto, feta vediamo se lo riesco a prender da sopra ecco l'obeto entro qua in mezzo sono tre sono tre sono tre sono tre, caldo sono tre sono tre sì, sì, c'è, c'è, c'è attenzione, l'intelligenza ha localizzato diverse roccaforte non puoi interrogare, eh? non puoi interrogare, eh? è fiegato a tutti 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 tutti a tutti 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 a 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 tutti